Chirurgia Anton Chekhov Un ospedale di provinza. In assenza del dottore, che è andato a sposarsi, riceve ai malati l'assistente medico Curiatin, un uomo grasso, sulla quarantina, con una logora giacchetta di cotone e dei logori calzoni di maglia. Il suo viso esprime coscienza del dolore, la soddisfazione. Fra l'indice e il medio della mano sinistra ha un sigaro, che emana un odore pestifero. Nell'ambulatorio entra il sagrestano von Miglasov, un vecchio alto e tarchiato, con una tonaca color cannella e una larga cintura di cuoio. All'occhio destro mezzo chiuso per una cataratta e sul naso un bitorzolo, che visto da lontano sembra una grossa mosca. Per un istante il sagrestano cerca con gli occhi l'icona e non trovandola si segna davanti a un bottiglione di soluzione di acido fenico, poi tira fuori da una pezzuola rossa un pane benedetto e con un inchino lo depone davanti all'assistente medico. Ah, 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 i miei rispetti, sbadiglia l'assistente medico. Che cosa vi sentite? Buona domenica a voi, Sergei Kutzmik. Ho bisogno di un favore. Con giustizia e verità, nel salterio, ho detto scusate, il mio bere è mescolato di pianto. L'altro giorno sedevo con la mia vecchia a bere il tè. Non ne avevo ancora, mio Dio, bevuto una goccia, ne mangiato un boccone, ne inghiottito un tantino e già non ne posso più. E non mi fa male solo il dente, ma anche tutta questa parte. E mi sento tutto rotto. E mi trapassa nell'orecchio, scusate, come se dentro ci fosse un chiodino o qualche altro oggetto. Mi dà certe fitte, certe fitte. Ho peccato, ho violato la legge. Il mio animo si è indurito per la vergogna dei peccati e ho consumato la mia vita nell'accidia. Per i miei peccati, Sergei Kutzmik, per i miei peccati. Il padre diacono, dopo la funzione, mi ha rimproverato. Sei diventato balbuziente, tu, Efim, e Mugugnone. Canti e non c'è verso di capire qualcosa di quel che canti. Ma, giudicate voi, come si può cantare se non è possibile aprir la bocca che è tutta gonfia? Scusate, e non si è chiuso occhio per tutta la notte. Già, sedete, aprite la bocca. Von Miglasov si siede e apre la bocca. Kuriatin aggrotta le sopracciglia. Guarda nella bocca del sagrestano e in mezzo ai denti ingialliti dal tempo e dal tabacco ne scorge uno ornato da un grosso buco. Il padre diacono mi ha fatto mettere sopra della vodka col rafano ma non mi ha giovato. Glicaria Anisimovna, che Dio le concede la salute, mi ha dato un filo portato dal monte Athos da legare al braccio e mi ha ordinato di risciacquare il dente con latte tiepido e io, lo confesso, il filo me lo sono messo ma per quanto riguarda il latte non l'ho fatto. Ho timor di Dio? È quaresima? Pregiudizi. Bisogna estrarlo, Efim Micheic. Voi lo sapete meglio di chiunque altro, Sergei Kuzmich. Per questo avete studiato, per poter capire quando si deve togliere e quando invece si può curare con le gocce o altro. Per questo vi hanno messo qui, nostro benefattore, che Dio vi conceda la salute. Infatti preghiamo per voi giorno e notte, nostro buon padre, fino alla morte. Sciocchezze, si schermisce l'assistente medico, avvicinandosi all'armadio e frugando tra i ferri. La chirurgia è una sciocchezza. Ci vuole solo pratica e mano ferma. È come sputare. Giorni fa, proprio come voi adesso, viene all'ospedale il proprietario Aleksandr Ivanić e Gipetsky. Anche lui per un dente. Uomo istruito, che si informa di tutto, che vuole saper tutto, il come e il perché. Mi stringe la mano, mi chiama con nome e patronimico. È vissuto a Pietroburgo per sette anni e ha frequentato tutti quei professoroni. Si è rimasto un bel po' qui da me. Mi prega, in nome di Cristo e Dio, Strappatemelo, Sergei Kuzmich. E perché non farlo? Si può strappare. Soltanto bisogna intendersene, altrimenti è impossibile. I denti non sono tutti uguali. Uno si strappa con le pinze, un altro con il piede di capra, un altro ancora con la chiave, secondo i casi. L'assistente medico prende il piede di capra, lo guarda un istante interrogativamente, poi lo posa e afferra le pinze. Coraggio, aprite la bocca più che potete, dice avvicinandosi con le pinze al sagrestano. Ora lo... Insomma, è come sputare. Occorre soltanto fare un'incisione sulla gengiva, esercitare un'attrazione nel senso dell'asse verticale ed è tutto, incide la gengiva. È tutto. Voi siete il nostro benefattore. Noi sciocchi non capiamo niente, mentre a voi il Signore vi ha illuminato. Non chiacchierate mentre avete la bocca aperta. Questo dente è facile da togliere, ma alle volte capita che rimangono le radici. Ecco, è il momento di sputare. Applica le pinze. State fermo. Non contorcetevi. Non muovetevi. In un batter d'occhio, esercita la trazione. L'importante è afferrare il più profondo possibile. Tira, perché non si rompa la corona. Padri nostri, madonna santissima. Non così, non così. Come si fa? Non attaccatevi con le mani. Via le mani. Tira. Adesso, ecco, ecco. La faccenda non è facile. Padri zelatori. Grida. Angeli. Oh, oh. Ma strappalo dunque. Strappalo. Che ti ci vuole? Un secolo a tirare? Qui si tratta di chirurgia. Non si può di colpo. Ecco, ecco. Von Miglasov solleva le ginocchia fino ai gomiti. Agita le dita. Sbarra gli occhi. Respira a scatti. Il viso paonazzo gli si imperla di sudore. Nei suoi occhi spuntano le lacrime. Curiat in soffia. Pesta i piedi davanti al sagrestano. E tira. Passa mezzo minuto tormentosissimo. E le pinze scivolano via dal dente. Il sagrestano balza in piedi e si ficca le dita in bocca. Tastando all'interno della bocca, sente il dente allo stesso posto di prima. Hai tirato? Dice con voce pianicolosa, ma nello stesso tempo ironica. Che ti potessero tirare così all'altro mondo. Ringraziamo umilmente. Se non li sai strappare i denti, non ti ci provare neanche. Non ci vedo più. E tu perché mi tieni con le mani? Se dira l'assistente medico. Io tiro e tu intanto mi urti il braccio. E dici stupidaggini. Imbecille. Imbecille sei tu. Tu credi, contadino, che sia facile togliere un dente? Provaci tu. Non è mica come salire sul campanile e suonare le campane? Rifacendogli il verso. Non sei capace. Non sei capace. Guarda un po' chi deve venire a insegnarmi. Ma ti pare? Ho tolto un dente al signore Gitebski, Alexander Ivanich. E quello non ha detto nemmeno una parola. È un uomo più rispettabile di te. E non mi teneva con le mani. Siedi. Siedi, ti dico. Non ci vedo più. Lasciami tirare il fiato. Oh. Si siede. Una sola cosa. Non farla tanto lunga. Da uno strappo. Non tirare strappa. Di colpo. Vuoi insegnare a uno scienziato? Che gente ignorante. Signore il Dio. Prova un po' a vivere con questa gente. C'è da diventare matti. Apri la bocca. Applica le pinze. La chirurgia, fratello, non è uno scherzo. Non è come cantare nel coro. Esarcita la trazione. Non muoverti. Si vede che è un dente vecchio. Ha delle radici profonde. Tira. Non muoverti. Così. Così. Non muoverti. Ecco. Ecco. Si odia uno scricchiolio. Ecco. Lo sapevo io. Fomiglasov rimane immobile per un attimo. Come privo di sensi. È inebetito. I suoi occhi guardano stupidamente in lontananza. Il suo viso pallido è coperto di sudore. Se avessi usato il piede di capra, borbotta l'assistente medico. Che disdetta. Tornato in sé, il sagrestano si infila le dita in bocca. E al posto del dente malato, trova due punte sporgenti. Diavolo rognoso. Articola. Vi hanno schiaffato qui. Erode, per nostra disgrazia. Forza, insultami ancora, borbotta l'assistente medico, riponendo le pinze nell'armadio. Ignorante. Te ne hanno suonate troppo poco in seminario. Il signore Gitebski, Aleksandr Ivanić, ha vissuto a Pietroburgo per sette anni. È istruito. Un solo vestito gli costa cento rubli. Eppure non mi ingiuriava. E tu? Che gran personaggio sei. Non creperai per così poco. Il sagrestano prende dal tavolo il suo pane benedetto e, premendosi la guancia con la mano, se ne torna a casa.